E' con noi il consigliere regionale Franco Caramanico che ci parla dell'evoluzione della situazione sulla sanità in Abruzzo. Purtroppo siamo in una fase molto delicata, per non dire molto preoccupante. Il programma operativo che è stato presentato da parte del commissario regionale, da parte del commissario Chiudo a livello ministeriale, è un programma che prevede la rivisitazione di tutta la rete ospedaliera, riproponendo per l'ennesima volta la chiusura dei piccoli ospedali, senza puntare al problema vero che è quello di rivedere i conti finanziari della regione Abruzzo, perché dopo una fase virtuosa avviata al centro-sinistra con il piano sanitario regionale del 2008 e con il piano di rientro che ha visto il deficit di questa regione scendere costantemente fino ad azzerarsi nel 2009, invece il tendenziale del 2010 prevede un aumento di 104 milioni di euro, quindi siamo di nuovo all'anno zero. Quindi il programma operativo dovrebbe preoccuparsi di individuare quali sono le ragioni nelle cliniche private, nell'aspetto farmaceutico e nel personale, invece si continua con questa ottusa ostinazione a pensare a chiudere i piccoli ospedali che incidono solo per un milione e settecento mila euro, creando grave disagi perché purtroppo noi abbiamo un territorio montano, non siamo la regione Veneta e chiudere tutti gli ospedali delle zone interne significa creare, aumentare ancora di più questa differenza tra le zone interne e la costa. La vera programmazione secondo me invece doveva interessare specialmente l'area metropolitana perché lì sono concentrati circa il 50% dei posti let, interessare di nuovo i privati che comunque la fanno ancora da padrone tant'è che la spesa aumenta, però si è persa un'occasione. Concludo dicendo che la cosa più grave di questa regione è che non tiene conto che è stato approvato un piano sanitario nel 2008, che è legge vigente, che ha prodotto dei risultati risultati eccezionali non solo da un punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista sanitario perché il tassi di ospedalizzazione è stato ridotto che ha permesso alla regione di non aumentare le tasse e non si capisce per quale ragione invece si ostina a sostenere sempre le stesse politiche a favore dei privati e contro il territorio. Grazie.